eccomi buonasera sento che sta per partire la sigla scotennità sono scotennata e non c'è verso che riesco a farceli stare neanche col gel con la lacca devo comprarmi la brillantina poi faccio i baffetti e faccio l'omino anni trenta porca non stanno in nessun modo ora sono anche ancora mezzi bagnati dovevano stare un po più piatti invece niente manco con l'acqua allora ieri con il ciaxi evoca che me lo avete di nuovo guardato in pochia il ciaxi evoca via antipatico ma a me piace tanto raccontare le serie tv e i film e quindi ve li racconto lo stesso perché mi diverto io a raccontarli è dittatura no ma a prescindere dal discorso della rubrica di ciaxi evoca che può interessare o meno però ieri ho parlato di quel drama di quella di quel telefilm asiatico 30 puntate che si intitolava to get her dove il protagonista si ritrovava dentro al metaverso in una dimensione appunto metaversica o metaversale ancora non è stato definito il termine corretto in ambientazione antica presumibilmente dinastia cing o forse ming già comunque a prescindere dal telefilm di cui ho già parlato ieri stasera voglio parlare del metaverso perché per chi lo conosce sa bene che il metaverso non è nulla di paranormale ma è semplicemente un mondo parallelo una dimensione parallela creata a livello informatico in versione virtuale sta dilagando sempre di più e sta arrancando in ogni tematica anche nello spiritismo in qualche modo ma partiamo dagli inizi per capire di preciso cosa sia il metaverso seppur per molti potrà sembrare ancora fantascienza in realtà è già esistente bisogna partire dagli albori dell'utilizzo di internet il boom internet è iniziato a un data vera e propria alla fine degli anni 90 primi anni 2000 non appena si è passati da una digitalizzazione prettamente indossi a un utilizzo basic e html che sono termini comunque che tra l'altro di situazioni di criptografia informatica che non si utilizza più fino ad arrivare poi all'asp e fino ad arrivare poi a ciò che viene utilizzato ad oggi ma non sto facendo una lezione di informatica adesso la faccio già di mio durante la settimana nacquero i primi gdr online i gdr esistevano già da tempo in memore io ricordo di aver comprato il primo nintendo che avevo boh 11 12 anni quindi sto parlando del 1986 87 e sul primo nintendo che era cartuccione iniziavano a prendere ad andare di moda i gdr giochi di ruolo nel quale tu eri un personaggio che doveva seguire una certa tecnica una certa strada da certi indizi fino ad arrivare a uno o più possibili finali era un videogioco c'era in varie varie storie varie epoche fantasy storici il più famoso forse in assoluto del periodo in sé era zelda dove l'elfo link doveva riuscire a liberare appunto la principessa zelda questo tipo di giochi giochi di ruolo di cui fa parte anche lo stesso final fantasy tanto famoso sui coden altro gioco estremamente famoso dungeon and dragons e mille mila altri ho nominato i tre che bene o male che anche solo la mia età l'ha sentiti nominare da lì con l'avvento dicevo di internet iniziarono dei giochi di ruolo online che non erano però dei giochi erano delle chat dove si chiacchierava sia in versione pubblica quindi di fronte a tutti i giocatori e sia in versione privata tramite una chat privata ricordo che mi ero iscritta nel 2003 2003 o 2004 2003 2003 sì sì non ci piove a uno di questi giochi di ruolo online che suppongo esista ancora seppur io non l'abbia più guardato ormai da una vita e mezza e si intitolava dream age il regno dei sogni in questo sito perché alla fine era un sito un sito di chat ma era un sito creavi il tuo personaggio con un tuo avatar quindi con un'immagine che rappresentava il tuo personaggio inventavi una storia parlavi come era uso parlare in quel mondo perché era un mondo fintizio un mondo virtuale tutto per iscritto non c'era nomini l'unico avatar quindi l'unica immagine che c'era era l'immaginetta che sceglievi tu di mettere sul tuo account ricordo che quando entrai in dream age eravamo proprio pochi a giocare e io per dare una mano ai proprietari del gioco stesso a chi aveva avuto quest'idea di creare questo gioco online avevo creato tre personaggi ero Corinne una sorta di sacerdotessa particolare Lorelai una strega nera divenuta poi vampira e mirror un musicista ragazzo uomo e uscivo da un personaggio che entravo nell'altro e chiacchieravo con gli altri c'erano persone come me che entravano per giocare quelle due o tre ore svarionavi in attimo la testa uscivi dal mondo reale materiale delle bollette del lavoro e di quanto cavolo c'è nella realtà e svagavi la testa diventando un sacerdote una principessa un re un mago e poi il gioco prendeva forma in base alla tua fantasia perché eri tu a scrivere cosa stava succedendo Corinne si avvicina al re lancia un incantesimo e fa sì che il re diventi con tre piedi faccio un esempio idiota l'altro giocatore dall'altra parte doveva seguire il ritmo della parlata dicendo cosa avrebbe fatto il re quindi il re nel vedersi tre piedi e continuava la situazione e si giocava così inventando queste storie una due tre anche quattro ore per notte di solito la sera si giocava di più perché tutti bene o male lavoravano e perché internet all'epoca la utilizzavano solo quelli che erano capaci a utilizzarlo quindi gente grossomodo tra i 20 e i 40 anni che era rientrata nell'ambito dello studio dell'informatica che aveva anche un certo livello culturale perché non era semplice come oggi con app e cose varie e quindi insomma c'era una certa cerchia di persone online non erano proprio tutti come oggi c'era però in mezzo a questi gdr anche in mezzo a questi giochi di ruolo c'erano anche personaggi non proprio bellissimi c'era il marpione c'era quello che ci provava c'era quella che ci provava e via dicendo e tante altre categorie che adesso non sto a descrivere da lì in parte sono nate le prime idee dei social quindi dei luoghi dove si può chiacchierare giocare scrivere inventare e socializzare non è più un gioco uno si presenta solitamente con le sue credenziali normali e conosce persone i social che conosciamo tutti ad oggi facebook instagram youtube twitter poi ogni social si è specializzato in mire differenti a seconda del suo utilizzo instagram è più per le immagini per le foto facebook più il bar di quartiere twitter è per le frasette buttate lì infatti twitter è utilizzato da personaggi di spicco da personaggi conosciuti che non dalle persone comuni le persone comuni lo utilizzano semplicemente per seguire i personaggi di spicco che appena fanno acciu sono tutti lì ad applaudire ma in generale si sono poi diversificati ma i giochi di ruolo online hanno comunque continuato a esistere ripeto tanto è vero che adesso non l'ho neanche cercato sul pc ma credo che dream age dove giocavo io ora lo cerco dream age il regno il regno dei sogni mi pare che e adesso no forse non esiste neanche più non esiste neanche più allora era proprio un gioco di ruolo online è un gdr online ah no si c'è la pagina su facebook ma non trovo il sito però su facebook c'è la pagina dedicata proprio ecco vedi che sono rimasta saranno 15 anni che non non lo cerco più mi è venuto in mente adesso mentre ne parlavo dream age c'è un luogo nascosto è diventato bello famoso all'epoca eravamo quattro gatti comunque c'è anche la pagina su facebook e credo sia diventato anche un gioco proprio da giocare cliccandoci vabbè non l'ho seguita adesso non sto a entrare nei dettagli di quel gioco in particolare peraltro era uno dei più belli e dei più ben fatti perché serio con moderatori molto seri molto precisi che controllavano la situazione che fosse solo di gioco e non ci fossero disturbatori quindi un bel posto ma era uno dei pochi posti rari belli la maggior parte di questi luoghi di chat comuni erano tutti dei putanai tremendi da una parte e dall'altra dream age era carina quindi io ci restavo giocavano diventata amica con due o tre persone che avevano i personaggi lì con loro tra cui appunto gli amministratori e si divertiva a creare queste avventure da tutto questo la situazione informatica si è evoluta in maniera vertiginosa negli ultimi vent'anni ad oggi facebook stesso ha cambiato il proprio nome in meta l'app si chiama sempre facebook ma la compagnia che racchiude anche facebook oltre a whatsapp instagram e altri proprietà del signor zuckenberg è diventato meta proprio per l'assonanza con il metaverso metaverso significa letteralmente meta significa all'interno verso è un'abbreviazione di universo quindi un universo dentro un universo una dimensione parallela virtuale all'interno della nostra dimensione materiale la mira principale del metaverso è di arrivare un giorno che sia veloce e suppongo che non manchi molto o che sia un domani a entrare fisicamente in un mondo virtuale con tanto di monitor virtuale con tanto di occhiali virtuali con tanto di guanti tattili e quant'altro e potersi creare un po' come nei videogiochi non so se li conoscete di the sims che erano diventati estremamente famosi dove appunto si creavano delle vite parallele quindi io che sono medium e sono perito informatico e sono sposata con un figlio e un gatto nella vita normale nel metaverso potrei diventare un eremita single che vive con un orso e studia le erbe qualsiasi cosa io voglia posso diventare anche il papa ci saranno 15.000 papi perché nel metaverso ti crei un avatar cioè un personaggio ma nel metaverso questo personaggio prende una forma concreta tu ti guardi ti guardi allo specchio e vedi il personaggio che hai creato e saranno sempre più precisi specifici anche nelle forme via dicendo che sia un bene che sia un male tutto sta da che parte guardi la medaglia perché tutto qualsiasi cosa della nostra esistenza è un bene da una parte ed è un male dall'altra ci saranno sicuramente persone che seppur sia triste pensarlo avranno comunque una vita migliore forse nel metaverso rispetto a quella che hanno nella realtà basti pensare a una persona che magari non si piace si vergogna di se stessa perché è troppo grossa perché è troppo magra perché con i baffi perché con gli occhi storti perché non si piace a lei anche se magari la Schiffer qualsiasi condizione che non le permette psicologicamente di entrare in rapporti sociali con altri nel metaverso potrà creare la sua immagine come più le aggrada e avrà sicuramente una vita sociale migliore e questo in qualche modo forse la terrà un po' più attaccata a qualche piacere della vita per controparte tutte quelle persone che magari hanno una vita normale ma insoddisfacente cercheranno una seconda vita e potrebbero anche incannalarsi e bloccarsi uscendo dalla realtà quindi diciamo che ci sono i pro e i contro da una parte e dall'altra che se ne pensi bene o che se ne pensi male prima o poi ci arriveremo alla realtà virtuale ci siamo già arrivati io provavo l'altro giorno il visore che c'è mio figlio della playstation dove ha due giochi molto semplici uno dove devi entrare sott'acqua e vedi tutti i pesci c'è lo squalo che ti attacca è una figata pazzesca nel senso che sei proprio sott'acqua ti giri guardi intorno è fantastico avevo visto quello alla mostra del cinema al museo del cinema a genova dove ti facevano provare il visore ti facevano guardare determinate cose all'interno del visore e anche lì era stata un'esperienza bellissima tutto sta a come lo prendiamo ma perché ne parlo sul mio canale che riguarda il paranormale ne parlo qui ma ho dovuto fare una prefazione informatica altrimenti se fossi partita solo col dire il meta universo moltissima gente che mi segue normalmente avrebbe detto questa di che cosa sta parlando e allora la prefazione informatica semplificata al mille per mille come al solito perché è inutile che vi dico termini tecnici informatici si odio dove proprio sono obbligatori devo dirli per forza se devo parlare di un avatar devo spiegarvi cos'è un avatar ma i miei video non sono mirati a fare lezioni di informatica poi se vi interessano io vi faccio pure quelle tanto le faccio tutte le settimane le mie donnine anziane dei paesetti vicini quindi posso farli anche via video se volete però esulano dal discorso paranormale il 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 punto è che moltissime aziende soprattutto per ora nell'est quindi tra la russia tra la corea il giappone la cina e più o meno gran parte dell'est potente dell'est che comunque investe molto nella ricerca informatica non nei paesi più poveri dell'est e hanno iniziato a creare sia delle applicazioni che in qualche modo si ricollegano anche al metaverso e sia delle applicazioni di contorno che non sono realmente legate al metaverso ma comprendono comunque il discorso dello spiritismo e soprattutto dei defunti ce ne sono tre o quattro di cui mi sono presa anche appunti perché ve li voglio spiegare al meglio e i nomi altrimenti poi io sfarfallo e me li scordo uno dei più famosi è with me è un'applicazione coreana dove la persona che installa questa applicazione inserisce dati e una foto in 3d del suo caro estinto del defunto dopodiché potrà parlare quando vuole con il suo caro estinto che ovviamente risponderà per un programma non è il reale defunto ma apparirà come stiamo chiacchierando in videochiamata io e te come se io stessi facendo una videochiamata al mio caro estinto è un modo come un altro per sublimare per esorcizzare i lutti prettamente pesanti io devo dire la verità non li ho ancora provati non ho provato queste app non l'ho neanche cercate non so nemmeno se siano libere se ci siano se siano a pagamento se siano ancora in fase di sperimentazione so che in corea corea del sud viene già utilizzata questa with me questa app che inserendo tutti i dati e appunto una fotografia in 3d del caro estinto si può fingere di continuare a chiacchierare a tu per tu via telefono con il caro estinto poi c'è safe beyond safe beyond è una applicazione che permette a chissà che se ne sta per andare perché magari c'ha una malattia o perché è anziano o perché comunque sa che gli manca poco e decide di registrare sul suo telefono tramite un'applicazione che collega a un server in internet che poi salverà tutti questi dati di mandare determinati sms con cose scritte dal defunto stesso quando è ancora in vita e mandarli nelle date che lui vuole faccio un esempio io so che devo morire tra due mesi mando per i prossimi dieci anni tutti i 27 maggio ho gli auguri di compleanno a mio figlio sul suo telefono programmo questo safe beyond e tutti gli anni finché mio figlio manterrà quel numero di telefono gli arriveranno i miei auguri i miei saluti e via dicendo non è una cosa spiritica l'ho creato e li ho scritti prima di morire però questa applicazione gestisce le date le ore quando inviarli e via dicendo poi c'è sta nascendo e qua già si entra in parte nel metaverso il cimitero virtuale che cos'è? faccio un esempio molto semplice io ho alcuni miei cari che sono sepolti a Genova al cimitero della Cabona Rivarolo ho una persona a me carissima che è sepolta al cimitero di Campo Morone ho mio papà e mia nonna che sono sepolti al cimitero di Bolzaneto che si chiama La Biacca ho una carissima amica che è sepolta cimitero di San Pierdarena e via dicendo qui dove abito nelle Marche in questo cimitero c'è il mio suocero e così via non ho tutti i parenti e tutte le persone care nello stesso cimitero anche perché soltanto a Genova da un quartiere all'altro ognuno c'è il suo cimitero con questa applicazione che si chiama RIP Cemetery io posso creare il mio cimitero virtuale sul mio telefono e quando decido di andare a trovare i miei cari attraverso l'app in metaverso quindi in versione virtuale li posso andare a trovare tutti nel mio cimitero personale attraverso questa applicazione posso portare fiori posso stare lì davanti a una lapide poi davanti all'altra e via dicendo creando il mio cimitero personale all'interno del mio account in RIP Cemetery viene definito infatti un cimitero interattivo ma il boom più grosso non è un'app sempre in Corea è stato avviato un programma di realtà virtuale che si prefigge di far incontrare fisicamente seppur in maniera virtuale i cari estinti è stato testato per la prima volta su una signora coreana di nome Yang che aveva perso la figlia di 7 anni a causa di una malattia fulminante questa signora che non riusciva a elaborare il lutto della morte della figlia della bambina si è offerta volontaria per l'esperimento lo si trova anche su youtube questo esperimento ora non ricordo il titolo esatto ma c'è ha un suo canale questa signora tra l'altro e praticamente in realtà virtuale dentro però uno studio l'hanno fatta incontrare con la figlia defunta hanno creato uno scenario nel quale la signora si è ritrovata dentro a un parco che aveva visitato anni prima proprio con la figlia e gli hanno messo il visore della realtà virtuale dei guanti tattili che servono per sentire la sensazione di toccare gli oggetti e le cose e una serie di ricevitori di sensazioni dall'aria e via dicendo è un discorso fatto completamente in laboratorio però non è un'app che possono usare tutti ovviamente è ancora in fase sperimentale questa signora si è ritrovata praticamente all'interno di questo sogno virtuale dove ha incontrato la figlia che è stata caricata con tutti hanno messo otto mesi solo per riuscire a caricare tutte le immagini che sarebbero servite per questo incontro quindi il paesaggio gli odori i colori la luce e poi l'immagine della bambina in 3d ovviamente la signora ha parlato con la figlia l'ha tenuta per mano e l'ha sentita tenere per mano grazie ai sensori l'ha accompagnata a una festa di compleanno dove c'era anche una torta c'erano dei regali fino poi a riuscire a salutarla quando la bambina a un certo punto gli ha detto adesso io vado a dormire mamma e mi riposo finalmente e si vede proprio la bambina che va verso un letto nel frattempo da fuori al visore della situazione del metaverso virtuale c'erano il padre e i fratelli della bambina il marito della signora con gli altri due figli che attraverso un monitor di pc vedevano proprio tutta la storia e l'incontro come se fosse un film proprio tra la signora e la figlia la signora Young l'ha presa in maniera positiva questa cosa gli ha dato un senso come di essere finalmente riuscita a dire comunque le ultime parole che non era riuscita a dire alla bambina e quindi va bene ci sta il rischio è sempre che se uno già non riesce a elaborare il lutto per conto suo si attacchi a questa persona fintizia perché poi alla fine non è il caro estinto non stiamo parlando ovviamente di paranormale ma ce la voglio mettere voglio metterci il mio pensiero personale sul paranormale questo tipo di esperienze vanno prese con le pinze perché ci sono appunto come ho ripetuto per tutto il video persone che possono prenderla in maniera favorevolissima e quindi in questo modo in qualche modo fargli proprio del bene questo tipo di esistenza e ci sono invece persone che a causa del loro modo di ragionare di pensare del loro modo di essere potrebbero invece rovinarsi psicologicamente con questo tipo di esperienze quindi il rovescio della medaglia è ai due estremi e comunque ha una parità del 50% di bene e di male il solito tau che nell'universo tutto comprende però io dico se alcune entità e qui entro nel paranormale riescono oggi come oggi a utilizzare spessissimo più spesso di quanto si creda i nostri stessi cellulari le app più stupide per acchiappare fantasmi per vederli eh possono essere manipolate da un'entità questo significa che l'app in sé non funziona di suo ma se un'entità riesce a smuoverla può parlare può usare questa questa app per i suoi scopi riescono a usare i nostri televisori quante entità ci sono che ce li spengono ce li accendono alle 3 di notte che si fanno agli affari loro riescono a far saltare le lampadine riescono riescono tantissimo a interagire con la nostra realtà digitale probabilmente perché i canali wifi e i canali ethernet ancora quelli via cavo sono di facile utilizzo per il loro tipo vibrazionale quindi se imparano usano il cellulare meglio di mia madre che non lo sa manco accendere ma mia madre è viva quindi chissà che una volta raggiunto un certo livello di metaverso in qualche modo non ci possa essere anche un riscontro da parte delle entità che potendo anche spostarsi e viaggiare tra le dimensioni parallele non abbiano anche la possibilità di interagire con questa dimensione fintizia ma comunque creata e pertanto esistente andiamo avanti analizzeremo il metaverso nel momento in cui ci sarà concesso l'accesso e nel momento in cui riusciremo a entrarci potremo fare esperimenti valutare studiare e comprendere meglio tutto ciò che riguarda questo argomento per ora ne so tanto quanto voi posso capire un po' di più i discorsi a livello informatico essendo la mia materia ma per il resto la mia esperienza equivale a quella di tutti quanti staremo a vedere chi vivrà vedrà si dice per il resto vi saluto e vi do la buonanotte vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto ci sono invece tre o quattro delle più conosciute ma sono mille mila librerie che tengono in vendita i miei libri soprattutto l'ultimo che sta andando a random ne ho ordinate altre 40 copie e comunque me li stanno prendendo su Amazon Amazon è il più semplice ma ce l'ha anche Streetlib ce l'ha Ibs ce l'ha Mondadori Feltrinelli tutte le librerie del mondo ciao